L'Istituto Alberghiero di Gela dall'anno scorso ha attivato un percorso di formazione per adulti che permetterà ai giovani che hanno superato la soglia del 18esimo anno d'età e alle persone adulte di riprendere gli studi e arrivare a poter ottenere in tempi abbastanza brevi un diploma che gli permetterà anche qui l'inserimento nel corso del lavoro. Anche il corso serale ha dei corsi attivati di laboratorio e quindi ci sono i tre segmenti della scuola che sono l'enogastronomia, la sale vendita e l'accoglienza turistica. È un'opportunità grossa per il nostro territorio, per il nostro distretto perché ovviamente permette a persone che ormai sono uscite dal percorso scolastico di poter completare il circo di studi. L'Istituto Alberghiero di Gela ha partecipato per ben due volte, una volta giugno e una volta ottobre all'Expo, l'Exposizione Universale a Milano. Abbiamo portato dei piatti tipici gelesi tenendoci un po' alla storia di Federico II e quindi al pesce azzurro. I nostri ragazzi hanno avuto modo di vedere qualcosa che purtroppo non tutti hanno avuto la possibilità. Sono stati bravissimi, hanno mostrato professionalità, diciamo così, hanno mostrato tanta professionalità. I ragazzi hanno arricchito le proprie competenze anche attraverso questi cooking show che abbiamo realizzato di fronte a milioni di visitatori. Abbiamo visitatori di tutto il mondo, cinesi, giapponesi e hanno apprezzato i nostri piatti attraverso delle degustazioni. Nel menù di oggi come antipasto abbiamo preparato favia e le acciughe. Come primo piatto abbiamo fatto le tagliatelline di scambetti e calamari. Come secondo piatto zuppa di pesce con olive tenere a scolane e infine come dolce torta di nocciole. Oggi abbiamo preparato una zuppa di pesce con olive a scolane. Il tutto l'abbiamo preparato in una pendola aggiungendo olio, aglio e cipolla. L'abbiamo fatti soffriggere e poi abbiamo aggiunto il polipetto e l'abbiamo fatto soffriggere anch'esso. Poi abbiamo sfumato il tutto col vino bianco. Inoltre abbiamo aggiunto il brodo del pesce e poi abbiamo aggiunto anche della salsa del pomodoro per colorare il tutto. Appena il polipetto era cotto l'abbiamo tirato fuori e l'abbiamo messo in una pirofila. E poi abbiamo aggiunto altri pesci crudi come il pesce spada, i calamari e i gamberetti. Ho chiuso il liceo d'hotelier perché mi permette di realizzare tutto il suo lavoro. Durante le due prime anni abbiamo studiato le materie comuni in tutti i licei. Più le materie professionelle come la cucina, la sala e il bar. Nel liceo abbiamo studiato il francese e l'anglais che permette di trovare anche un lavoro all'interno. È importante che le scuole sviluppo di sviluppo di sviluppo. È un'interessante scuole per la cultura e per l'elemento. È un'interessante scuole per la cultura e per l'elemento. È un'interessante scuole per la cultura e per l'elemento. Le prime anni sono il gestione del hotel, il gestione della città e il gestione del bar. Il tuo futuro è l'istituto alberghiero. Mi aspettiamo!